Siamo in qualche posizione, Matteo! Vai, Giulio! Piccola frattura, addirittura, il resto del gruppo, cioè ancora non significativa. I giri riprendo sono quattro, la gara è ancora a Porto Luca. Ecco lì, più due. Forza, ragazzi, fanno un applauso a questi ragazzi, giù! Forza! Grazie! Grazie, forza, forza! Siamo, ragazzi! Ecco, sono da... Grazie!